Da settimane l'area Flegherea, in particolare i residenti di Quarto e Pozzuoli, sono nuovamente mobilitati contro il rischio che si insedi una discarica sul territorio. Questa volta la cava da difendere è quella sita in zona Castagnaro, al confine tra i comuni di Quarto e Pozzuoli. Ad esattamente due anni di distanza dal corteo che vide scendere per strada diecimila quartesi e non che accolsero l'appello dei comitati e delle istituzioni in lotta contro l'apertura di una discarica nelle cave di via Spinelli, oggi le stesse persone sono chiamate ancora una volta all'azione per difendere quello che rappresenta uno dei diritti inalienabili di ognuno, il diritto alla salute. Troppo allarmismo forse per quella che in effetti è soltanto la bozza di un accordo di programma? A quanto pare no, e a confermarciole il commissario prefettizio di Pozzuoli, Ugo Mastrolitto, che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita del commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di discariche in Campania, annunziato Vardè. Vardè ha confermato al prefetto che la cava del Castagnarro è tra quelle individuate da tempo nella provincia con il sito di raccolta dei rifiuti. Ecco, con grande dispiacere, io devo dire che quello che io pensavo che fosse soltanto una lontana ipotesi, incomincia ad essere un'ipotesi molto concreta. Da che cosa le deriva questa certezza? Deriva dal fatto che proprio giorni fa, l'altro giorno, ho avuto una visita di un collega, il prefetto Vardè, che è il commissario, che è proprio preposto all'individuazione dei siti per creare discariche, il quale mi ha confermato che la località Castagnarro è una di quelle località da tempo individuate dalla provincia per creare un sito di discarica. A breve, quindi, un'ordinanza decreterà l'inizio dei sondaggi e dei rilievi necessari a verificare l'idoneità del sito del Castagnarro ad accogliere materiale CER 1905-03. Quando io leggo alcune dichiarazioni che fanno alcuni scienziati, alcuni medici, anche io come persona, come uomo, mi allarmo. Il compost, il cosiddetto compost fuori specifica, che ha detto agli esperti, non è altro che pure immondizio. Sì, ma per questo dovranno fare certamente degli accurati carotaggi, dovranno fare delle valutazioni di carattere sanitario prima di poter passare a una fase successiva di effettivo impiego e utilizzazione di un'eventuale discarica. Comunque, Tali operazioni non avranno però l'avallo del commissario prefettizio, che dice Mi opporrò strenuamente alla realizzazione della discarica, come uomo e come commissario. Io ho già rappresentato tutte le mie perplessità. Perplessità come commissario straordinario, quindi in rappresentanza della popolazione di Pozzuoli e miei personali. Io come commissario straordinario mi opporrò, nel senso che non accetterò né cercherò di collaborare nella realizzazione dei carotaggi. E sarà mio dovere poi informare anche i cittadini di Pozzuoli affinché ciascuno possa fare i passi legali che riterranno opportuni. Ancora una volta quindi, i cittadini di Quarto e Pozzuoli si troveranno a dover difendere il loro territorio. Si preannuncia una partecipazione di massa al corteo organizzato dal Comitato Castagnaro per sabato 4 febbraio. Il corteo partirà alle 15.30 dalla villa comunale di Quarto e percorrendo le strade della città giungerà fino alla cava del Castagnaro.